e bella a tutti raga eccoci qua in questo nuovo video oggi un video blog io sono mirkovic e oggi in questo video blog faremo una merenda speciale di pasqua oggi abbiamo qua con noi nella nostra tavola tavolozza nel senso tavolo abbiamo un bicchiere di cioccolato non lo mangio tutto mi raccomando ve lo ricordo che il cioccolato non lo mangio tutto se no qua si alza la glicemia il diabete qua abbiamo una tazza di caffè che ci può accompagnare e poi una bella fetta di colomba che è arrivata oggi con l'edizione della mensa del comune ecco ora iniziamo questo video blog e vi auguro tantissimi auguri di buona pasqua in quarantena purtroppo quest'anno è una pasqua diversa dal solito però dobbiamo accontentarsi che prima o poi se tutti rispettano le regole di rimanere a casa il più possibile uscire soltanto una volta a settimana per la spesa e così via per le esigenze e l'emergenza allora ottimo ecco ecco iniziamo questo video blog con questa merendina time di pasqua time iniziamo un po avere un goccettino di caffè oggi ho deciso di rimanere direttamente con la divisa bianca che è una maglietta che uso io per fare pulizie ma che stamattina ho fatto le pulizie di casa e visto che dopo pranzo era ancora così ho deciso di tenermi così tanto dopo faccio una bella doccia e ci vuole ora ci vuole questa merendina di ricarica perché oggi ho fatto le pulizie e quindi ho deciso facciamo un video blog direttamente siamo a posto ecco con il mio lavalier finalmente prima volta che faccio un vlog direttamente con il mio nuovo lavalier che mi è arrivato poche settimane fa ora iniziamo ad assaggiare il primo orso di questa colomba buonissima ottima è un po di zuccheri oggi è un calo di zuccheri perché con questo caldo e facendo le pulizioni di casa ho lavato i fornelli della cucina e così via ma devo parlare dopo la bocca piena adesso ci vuole un po di zuccheri oggi è amazing sta colomba è amazing è squisito buono mi voleva un po di ricarica un po di dolce ci vuole oggi anche tutta la mattina che sono a fare pulizia un po di ricarica ci vuole almeno con una merendina time di pasqua time oggi è tempo di pasqua quindi si dice pasqua time e adesso è il momento di una merendina piccolina time abbiamo ancora qualche pezzettino della colomba rimasti nello scottex ed ecco fatto ho deciso dai porta oggi un video diverso perché ho fatto le pulizie e il video tutorial di desi squat del pack completo aggiornato lo porto anche domani con la calma oggi è pasqua e quindi posso anche fare un po di riposo dai video tutorial e lo faccio da domani ecco mi sembra giusto se riesco oggi ma sono un po stanco quindi meglio domani con la calma è meglio un giorno in più che in meno con la calma e la pazienza il video ci sarà ora mangiamo un po di cioccolato e poi ci beviamo un po di caffè giovedì questo sono andato a fare una spesa completa alla md e mi sono preso direttamente una scala una confezione di colomba classica e poi mi sono preso un uovo da un chilo l'ho già aperto purtroppo è ancora quattro bicchiere un bicchiere già andato a ruba abbiamo già finito io mio fratello insieme questo è un bicchiere completo di cioccolato non ne mangio tanto però posso io mangio troppo tutto questo bicchiere in questo momento poi mi viene diabete lo siamo messi male devo cercare di stare equilibrato ancora due pezzi questo lo rimetto in frigo e ho solo per farlo vedere nel video ma in realtà non lo mangio tutto ci mancherebbe devo stare equilibrato nel mangiare anche il cioccolato perché non fa bene troppo ogni problema a masticare si è incassato il cioccolato che si è squagliato ma si è sciolto cacchio ottimo cioccolato non di marca però un chilo ci voleva uno completo e basta poi non ne compro più basta solo uno da un chilo basta finita la storia meno non esagerare quindi solo quello fa un'unica porzione ho fatto un uovo di pasqua grande che non devo non comprare altri siamo a posto è difficile da mangiarlo non è facile che si appiccica anche io e io sudo una volta faccio fatica a masticare perché ho fatto tanti denti quindi non è facile a volte un po' delicati a masticare a volte quello che sto facendo fatica non sempre dipende dalle volte buona basta cioccolato mi ha già dato un po' di ricarica un po' di zucchero con più la colomba che aveva i granellini di zucco un po' di zucchero ci volevo difficile da masticare il cioccolato mi dispiace se ho fatto troppo rumore con la bocca ma purtroppo non lo faccio a posto cerco di non farlo ma purtroppo mi capita perché si appiccica dobbiamo andare sempre con la lingua a pulire un po' che c'è intorno al cioccolato nei denti di destra era un caffè riscaldato da era abbastanza buono ma è un po' amaro ma a me piace o amaro dolce a me non mi cambia tanto ora mi asciugo le mani direttamente in questo scotte che l'ho girato così non faccio cadere l'ibriccio che c'era prima la colomba qua sopra e basta e siamo a posto bene questo video blog della merenda time di pasqua termina qua io vi auguro tantissimi auguri di buona pasqua e tantissimi auguri domani che è pasquetta quindi auguri di cuore di buona pasqua e di buona pasquetta per domani quindi con questi auguri e con questo blog io termino qui spero che vi sia piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su ad iscrivervi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei prossimi video attivando tutte le notifiche se no non gli avrete perfettamente tutte le mie notifiche dei video ecco e dopo seguitemi nei social che vi lascio nella descrizione del video che sono facebook instagram e discorde il blog dei programmi di pulizia e bella raga e alla prossima io chiudo qua ciao e bye bye e buona giornata buona serata dipende da quando lo carico il video ciao